E allora scudieri, The Avengers, Age of Ultron Il trailer, il teaser trailer, spero si pronunci così E' uscito stanotte, a quanto pare è stato lickato Lickato? Sì, c'è stato un leak da qualche parte E fu riuscito, la Marvel poi ha deciso di pubblicarlo ufficialmente Non l'ho ancora visto, ho visto che i miei amici ne hanno parlato su Facebook Non l'ho ancora visto, questa sarà veramente una live reaction Quindi partiamo, dura circa due minuti quindi il video sarà velocissimo I contenuti sono stati provati per questo pubblico Città Vi mostrerò qualcosa di bello Che vocione, esplosioni, belle Tutti che grideranno Ah, grideranno per pietà Tutti che imploreranno pietà, una cosa così Grande Capitano America Thor Figo Madonna, Hulk impaurito Che bel robottino Quello dovrebbe essere Ultron Io non so niente di Marvel, esco di ricarico Quindi so quello che succede nel film Figo Iron Man Castello Capitano America Quello sto dovrebbe essere il set Che hanno girato in Valle d'Aosta Se non sbaglio Bruce Banner Perso nella neve Ma quello si trasforma Poi si risveglia e si perde ovunque Grande Kickass Un sacco di robottini Questo maggio È la fine È la fine del... Grande il ritorno Una delle gemelle Olsen che urla Hulk Uuuuh figata Questa è la tanto spoilerata Hulkbuster Scarra Johansson In bici, in moto Andy Serkis Sembrava Andy Serkis Perché c'era un'immagine delle ballerine Non ho capito Conflitti interni tra gli Avengers Hulk contro la Hulkbuster Quicksilver versione Uuuuh Figata Non ci sono strings on me Non ci sono Come si dice Strings in italiano Fili Ecco Non sono tenuto da fili Questo Ultron Monello Maggio 2015 Mamma mia Bello Supererà il primo? Boh Sì dai Può darsi C'è più gente Più effetti speciali Un Iron Man gigante Ma non picchiatemi Perché ho detto Iron Man gigante So più o meno cos'è Ma Beh Carino Vedremo Dal trailer Ho imparato a non giudicare mai Per carità Perché alcuni film Si sono rivelati Poi Questo non penso proprio Sono rivelati terribili Ma il trailer sembrava fighissimo Ma è un trailer Aspettiamo i prossimi Quindi questa era giusto Una live reaction Mettete mi piace alle mie pagine Che vedete sotto in descrizione Solito io vi saluto Dai a video vedo veloce Andiamo avanti così Fico Lo sto riascoltando un attimo Per capire cosa dicono Dato che ci ho parlato Sopra per tutto il video Sì praticamente Gli Avengers Dicono frasi tragiche Tipo è la fine E così Mentre Ultron Continua a dire Sono libero Non ci sono più legami Su di me Quindi Eh sì Andy Serkis Quello E perché sono le ballerine Quale personaggio Ho fatto la ballerina Occhio di Falco Probabilmente Eh spettacolo Sarà spettacolare